Il GIP Claudio Bencivinni ha convalidato il fermo di Andrea Cangemi accusato di avere provocato la morte di Francesco Bacchi 20 anni a Ballestrate la notte di domenica scorsa nei pressi di una discoteca. Il giudice ha disposto per il ragazzo accusato di omicidio preterintenzionale gli arresti domiciliari come ha chiesto il suo legale l'avvocato Bartolomeo Parrino. Nel corso dell'udienza di convalida l'indagato ha risposto a tutte le domande e ha potuto visionare i video che hanno ripreso la rissa in cui è stato coinvolto e che è costata la vita Bacchi. Cangemi ha ribadito di non aver avuto intenzione di uccidere la vittima. Sostiene di avere sferrato calci dopo essere stato colpito. Il PM Alessandro Macaluso aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere. Stamani si terrà l'autopsia sul corpo di Francesco Bacchi. L'esame autoptico disposto dalla procura di Palermo servirà per acquisire nuovi elementi sulle cause del decesso. Mentre le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e attribuire altre eventuali responsabilità. Sono stati sentiti diversi testimoni e anche dopo l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza che però non hanno del tutto chiarito la vicenda ci sono altre persone scritte nel registro degli indagati tra cui figurerebbero anche dei minorenni.